... Aldo Gostinelli e Silvio Meazza insieme presentano il nuovo libro People Art Media edito da Mondadori Electa. La prima domanda non può che essere da dove nasce l'idea di questo volume a quattro mani? L'idea nasce un pomeriggio, con Silvio parlavamo di, come sempre abbiamo fatto, abbiamo parlato di tantissimi argomenti tra cui è emersa l'idea di scrivere un libro che prendesse due punti di vista. Il suo punto di vista, cioè quello più intellettuale nell'ambito della comunicazione e quello un po' più operaio da martello e scarpello delle piattaforme della tecnologia. L'avvento del digitale ha portato con sé cambiamenti sia a livello tecnologico che culturale. Nel libro trattate entrambi gli aspetti. Possiamo entrare più nel merito dei contenuti? Guarda, il libro vuole essere una specie, addirittura il primo canovaccio del libro lo chiamavamo One Digital Day, che mi sembrava il titolo di uno dei capitoli o di sotto capitoli. Di fatto volevamo raccontare la giornata media dell'italiano medio, che potevamo essere noi, alle prese con dei nuovi comportamenti rispetto anche semplicemente a vent'anni fa ci sono delle cose che ci sembrano incredibili. La reperibilità, il nostro lavorare 22 ore al giorno, il fatto di farci le foto con lo sfondo dietro al nostro faccione. Ci sono tutti dei comportamenti che sono diventati prassi, ma che se un popolo del passato arrivasse con la macchina del tempo ci troverebbe alquanto buffi. Anche il fatto stesso che mentre parliamo ogni tanto qualche telefono fa truc e tutti fermi perché dobbiamo guardare Whatsapp che cosa è successo. Siamo schiavi e nello stesso tempo padroni di questo strumento. Nel libro affermate che la vita vera di ogni utente è nella cache del suo PC. Ci spieghi meglio in che senso? Sì, diciamo che non è la vita vera, è la realtà di quello che poi si tende a fare giorno per giorno e la cache del computer in qualche modo ti consente di registrare quello che stai facendo. Molto spesso quello che accade è di, indipendentemente da cancellare un cookie o non cancellarlo, effettivamente un elemento che registra questa memoria che abbiamo continuamente è ogni volta che facciamo una ricerca. Quindi chi più della caccia di un computer ti sa dire che cosa hai cercato otto settimane fa o quello che era il tuo desiderio di viaggio e poi quello che effettivamente hai fatto. E sicuramente sta lì nel computer. In questo contesto sempre più complesso, come devono comportarsi le aziende? Come devono modificare il loro approccio nei confronti della comunicazione del consumatore? Il discorso è che noi non possiamo prescindere, come dicevamo prima, da questi comportamenti delle persone. L'unica cosa che possiamo fare è cavalcarli. Noi non possiamo pretendere di modificare una cosa che le persone fanno naturalmente. Se nel vagone medio della metropolitana media ora la gente è davanti a uno schermo, chi a messaggiarsi, chi a giocare a Candy Crush, probabilmente le aziende che vincono sono quelle che riescono a tenere alta la conversazione anche nei videogiochi stile Candy Crush, piuttosto che nella fruizione di piccoli video magari di durate inferiori rispetto a prima, però rilevanti nei contenuti, fruibili su uno schermo piccolo, quindi magari sottotitolati, magari in formato quadrato perché la gente il telefono lo indossa per così e non per cosà. Insomma, le aziende che vincono in questa battaglia sono quelle che riescono a cavalcare le regole del gioco senza per forza doverle modificare. Fabio Vaccarono, Country Manager di Google Italy, ha affermato proprio l'altro giorno in occasione di Adol che il vantaggio competitivo per le aziende in futuro sarà costituito dalla capacità di produrre e gestire dati di qualità superiore rispetto ai concorrenti. È d'accordo con questa affermazione? I dati oggi sono un elemento fondamentale. Questo eccessivo utilizzo dei dati sta anche divenendo però dall'altra parte un problema per le aziende stesse perché sono così tanti i dati che poi bisogna capire quali di questi utilizzare. Poi andare a dire oggi su un mercato dove il dato e come utilizzare quel dato che oggi ultimamente si tende a parlare di big data ci vuole ancora un po' di tempo. Quindi la prima cosa è sicuramente fare in maniera tale che le aziende capiscano che disponibilità di dati che ci sono. Poi utilizzare quelli strettamente necessari e poi successivamente possiamo dire di andare verso una qualità del dato. Tutto questo lo si può fare, l'importante è trovare le risorse giuste, questo diventa invece un problema per le aziende perché c'è rarità di risorse soprattutto in questo ambito e poi dall'altra parte è non sovrabbondare di dati perché sono troppi e poi proprio in quel troppo non si riesce a capire quale poi effettivamente porta un vantaggio all'azienda e quindi come poter poi operare al meglio. E per raggiungere questo consumatore sempre più distratto le agenzie come possono fare in termini di creatività? Le agenzie in questo contesto secondo me sono fortunatissime, non esiste un momento migliore di essere un'agenzia e di fare questo mestiere. Di fatto la possibilità che ci offre la manipolazione e il controllo dei dati come diceva Aldo sono quelle di conoscere le persone a priori e quindi di poter fare dei messaggi sempre più targetizzati e mirati e banalmente mi viene da dire che il futuro della comunicazione inziché è un messaggio uguale per tutti sarà tanti messaggi per utenti diversi perché perfino la televisione sta riuscendo a muoversi in un'ottica digitale e quindi conosce il target e sa a chi far vedere le cose banalmente. Se io sono una bevanda gassata posso fare il mio messaggio, la mia solita pubblicità natalizia celebrativa dell'anno ai miei consumatori abituali, ai consumatori del mio competitor farò un'altra pubblicità e a chi non consuma bevande gassate probabilmente farò una terza pubblicità invitandoli a provarle. Quindi le opportunità da quel punto di vista ci sono. Quello che guida a mio avviso continua a essere l'idea, quindi l'idea creativa e le idee sappiamo che nascono, lo vediamo in quegli eventi tipo il festival di Cannes, le idee nascono sempre semplici e poi vanno sui mezzi del momento, non è mai il contrario, nessuno dice adesso faccio un'idea Facebook o l'idea è Facebook. Facebook è un mezzo, ci stanno 26 milioni o 30 milioni di italiani a seconda delle rilevazioni e molti sono falsi, quindi un po' meno, però ci stanno milioni di italiani e quello è un media, le persone lo usano un po' come usano canale 5. Poi quello che io faccio su Facebook è l'idea e a quel punto io ho semplicemente nuove audience, ma le audience poi di fatto sono le stesse perché la persona è quella, semplicemente nella sua dieta o come la chiamiamo noi media, nella propria dieta la persona sceglie se passare più tempo davanti al computer o passarlo davanti alla TV o probabilmente davanti a entrambi senza guardare la TV appunto perché sono distratte e quindi passano il tempo guardando la TV con uno schermo davanti, noi lo chiamiamo second screen, in realtà secondo me è il primo screen perché è il secondo ormai diventato quello che fa da rumore di fondo. Dobbiamo aspettarci un secondo volume? No, un secondo volume non lo sappiamo, di certo verrà tradotto in inglese e proviamo a venderlo sia sul mercato londinese che quello di New York, che secondo anche Silvio sono due piazze interessanti e quando ci sono in Italia un taglio di questo genere e come l'abbiamo trattato io sinceramente non l'ho visto in scaffale, quello sicuramente sarà tradotto in inglese febbraio o marzo e vediamo se il mercato internazionale riesce ad assorbirlo oppure più che altro piacerà. Poi il secondo volume ci pensiamo perché ci sono voluti due anni per scriverne uno.